salve ragazze eccoci qua eccoci qua benvenute nel miceso allora oggi volevo presentarvi oltre che il tutorial volevo presentarvi delle delle lentine a contatto che mi sono state mandate da una ditta allora il colore che ho scelto io è like gris cioè sono un verde chiaro ora vi faccio vedere più da vicino nei dettagli le lenti che sembrano veramente molto naturali vedete ora a parte io ho le pieghette dell'età le grinsettine dell'età però sono delle lenti e sono molto naturali come potete vedere non sembrano lenti finte e ci si sta divinamente come se come se non ce l'avete addosso io ho provato altre lenti a contatto colorate però mi davano quella sensazione di avere avete presente quando avete i peletti negli occhi queste lenti di di ador non non hanno questo questa questa cosa questo questo bruttezza ecco questo fastidio sono come se non l'avete sono talmente fine esili facili da indossare che non non sentite ecco il la noia che 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 vi possono che vi possono dare allora queste sono delle lenti a contatto che si possono richiedere sia graduali sia così per bellezza ecco vi arrivano in questa confezione sembra tipo un diamante guardate quanto è bella allora aprite e ci avete questo questa confezione così che mi ricorda molto quando ero bambina e quelle lì che si faceva con la carta così e poi ci sono questi due astuccini dove appunto c'è il liquido e contengono la lentina dentro allora sono sono lenti che sono talmente leggere e non danno veramente fastidio mi sto trovando veramente bene non non ho quel quel fastidio e che possono avere le lenti a contatto poi vi farò sapere in seguito come mi trovo queste queste lenti hanno hanno la durata di circa tre mesi e si possono richiedere sia graduate sia altri colori in due opzioni se leggete nell'info box e trovate tutte le informazioni possibili riguardanti a queste lenti il prezzo è veramente molto basso non è un prezzo è un prezzo accessibile a tutti altra cosa volevo dirvi continuando il video potete vedere come ci si trucca con le lenti a contatto che se danno fastidio se se a volte va qualcosa nell'occhio tipo un ciglio può succedere tipo la polvere dell'ombretto cioè non non da fastidio proprio niente ecco ragazze quindi se volete continuare a guardare il video vedete anche il tutorial altrimenti leggete l'info box e trovate tutte le informazioni possibili riguardanti a queste lenti io ringrazio nuovamente lo staff di ador che mi ha mandato gentilmente mi ha concesso queste lenti gratuitamente e noi ci sentiamo al prossimo video ciao belle ciao ciao ciao